Siamo in piazzetta Galilei, in corso Galileo Galilei angolo via Tiepolo e qua c'è una aiuola curata da qualcuno. Andiamo a sentire un po' che è questo qualcuno che picchietta a quest'ora del mattino nella solitudine della città. Buongiorno. Buongiorno. Questo è un progetto fatto tra il comune e i cittadini attivi. Noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Clean Up. Abbiamo nella città diversi giardini in manutenzione, ovviamente in accordo con il comune. E noi che siamo in questo quartiere curiamo questo giardino che si chiama Giardino Galilei. Sto facendo l'ultima aiuola. Ovviamente per i motivi di distanza devo scendere da solo però come vedete non c'è nessuno e quindi procedo abbastanza bene. Questa è l'ultima aiuola. Dopodiché dobbiamo ancora poi mettere le piante, seminare eccetera, finirle. Però direi che siamo già a buon punto.